C'è ancora una figlia dei cattivi, il mio personaggio Jeffy. La sua mamma è Genoveffa, sorellastra di Cenerentola e sorella di Anastasia. Quindi la zia di Jeffy è Cenerentola e... sua nonna è Lady Tremaine, cioè la matrigna cattiva di Cenerentola. Che albero genealogico! Ehi! Scusa, nonina! Jeffy lavora nel salone di bellezza della nonna. Fa il lavoro sporco proprio come Cenerentola. Ma ha tante idee creative che vuole dividere con gli altri. È troppo o è bello per te? Dammi subito la sparacolla! Non avrei potuto chiedere un costume migliore, è una forza. Indosso un vestito con degli schizzi di colore. E ho due codini con tante ciocche di colori diversi. I costumi e il trucco dei figli dei cattivi sono stupendi. È stata Jeffy. La piccola Jeffy, ma dai! Mi piace molto!